Io che guardo questi video di sta gente che si allena tirando dei calci a alberi per allenare forse lo stinco, le tibie, ecco, lo stinco ce l'hanno i maiali, le tibie, si vede che sono tecnico io, tu mi devi aiutare, lui è maledetto, mi guarda e già ride, cioè neanche sto parlando, lui già ride perché sa che sta dicendo delle cavolate, le tibie, quindi funziona così veramente, no magari non vai a tirare i calci agli alberi, ti dico, ultimamente ho sentito dei ragazzi che mi dicevano che il maestro tailandese per condizionare le tibie gli tirava tipo il manico della scopa sulle tibie oppure gli passava sopra, ma quindi serve questa cosa, ma non lo so se serve, tu cosa hai fatto, tu non hai mai fatto niente, no Trovati un lavoro vero, è il video podcast che racconta percorsi di lavoro e di vita non convenzionali, sto già ridendo perché già Bise mi ha pizzicato dicendo l'hai imparata a memoria, gli ho raccontato che la volta scorsa ci ho provato, ma ho sbagliato, quindi l'ho letta e oggi non c'è mio fratello, ma ha un buon motivo per non esserci, ma non diciamo niente, non sveleremo più avanti, oggi c'è alla mia sinistra Bise, bentornato, grazie nonostante ci fosse il Milan oggi no, infatti questa cosa è veramente clamorosa, che ti sei sacrificato sai benissimo di avermi ingannato adesso la raccontiamo, ma soprattutto stasera Silvia Lanotte è qua con noi come ospite, facciamo un applauso, grazie Silvia tantissime cose sembra la coppa del nonno del nonno, lo dico perché 11, speravo 12, di avere come ospite la 12 volte campione e invece 11 11 ti devo accontentare ci accontentiamo, ma com'è possibile ciò? è possibile perché vincendo un sacco di incontri ho vinto tanto, si vede che ero portata mi sento di dire di sì, non so, guarda non ho studiato se ci sono dei record a riguardo no, beh, gli hanno superato anche i miei anche tu hai madonna certo, sì, sì, sì come si fa ad avere una costanza così, cioè eh, quando ti piace, fai tutto per una cosa che ti piace così tanto io non ho iniziato neanche da giovanissima, cioè in confronto a quelli che iniziano adesso ho iniziato a 16 anni, però poi una serie di eventi mi ha portato a essere sempre lì con la testa e con tutto, ecco e ancora complimenti perché grazie tra l'altro in Italia noi siamo molto bravi ad avere questa cultura monocalcistica in cui dedichiamo tutto lo spazio dello sport al calcio esatto e quindi ad esempio io che purtroppo leggo un pochettino questi giornali e tu mi dirai che sbaglio a leggere i giornali assolutamente e non ti conoscevo, ammetto, ti chiedo scusa e dopo mi sono informato e invece, porca miseria, c'è un palmarès ubicato a ridere perché oltre alla Coppa del Nonno e del Mondo, hai vinto anche i campionati europei, mi dicevi prima sì 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 esatto e poi vabbè, italiani ne avrei vinto un miliardo italiani, di pugilato anche certo però asfattiamo questa cosa della Coppa non c'è nessuna Coppa ci sono le cinture, medaglie o cinture vedi qua, proprio ti faccio capire che nonostante come ti raccontavo prima io sia un grande appassionato di wrestling e tu per questo mi vorrei uccidere probabilmente e anche nel wrestling ci sono le cinture, hai ragione non ci sono né le medaglie in quel serissimo sport che è il wrestling è tutto vero ragazzi, cioè diciamolo tu confermi sì tra l'altro adesso una nota fighter dell'MMA è passata a fare il wrestling Ronda Rose Day ah sì? esatto sì 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 adesso vabbè, mamma eccetera però è 3-4 anni fa è passata a fare questo vedi che so anche chi è ovviamente per il dio denaro ma beata lei beata lei in agonia non ho letto invece Brock Lesnar ha fatto l'opposto è andato lui a fare degli incontri di MMA che mi sa che è stato anche mazzuato io non so di chi state parlando non sai chi sia, è uno che nel wrestling ha vinto un po' di tutto ok e niente, poi dopo è tornato a fare bene che era meglio no però in realtà non penso fosse neanche così scarso nell'MMA però vabbè direi che sono due mondi lì è più finzione uno sono no non dire questa cosa assolutamente sono degli stuntman dai sì sì no più o meno voi no, le prendete e le date no, lì è tutto reale è tutto vero lì ma ci si vive di kickboxing da atleta professionista? ti faccio subito una domanda bruttissima bruttissima perché come dicevi prima appunto il mondo del calcio regna su tutto ma non è c'è il professionismo soprattutto in Italia sì però uno ci sono pochi media che coinvolgono a questa attività a livello visivo, a livello di stampa, a livello di tutto ok? si parla sempre solo di calcio ovviamente e poi due, le donne sono sempre diciamo discriminate purtroppo perché? perché così siamo in meno, siamo in minoranza in un ambiente maschile un po' come tutti gli ambienti però questo è proprio diciamo uno sport maschile e quindi questo ovvio ci vivi devi stringere i denti perché comunque io ho vinto tanto ma ho sempre vinto io dico con uno zero in meno a livello monetario proprio cioè se uno vinceva 30.000 euro io vincevo 3.000 euro la differenza è tanta ok? fai 10 match da 30.000 euro è un conto fai 10 match da 3.000 euro è un altro è capito? quindi questo per quanto riguarda anche a livello lavorativo se io lavoro in palestra e un uomo lavora in palestra un uomo è più prestante magari anche meno tecnico di me a insegnare ovviamente però può richiedere di più perché chi lo sa il famoso problema del gender pay gap eh sì perché comunque l'uomo è visto come quello che può chiedere di più ma in televisione ad esempio chi è che ha i diritti della kickboxing? nessuno poca roda allora se youtube no più che altro c'è un evento al mese a mezzanotte di sabato sera chi lo può vedere? o i diretti interessati ok? quelli proprio del settore quella nicchia che è ristretta comunque oppure no ad esempio io ho combattuto spesso in Francia in Francia il sabato sera combatti il mercoledì sera della settimana dopo chi guarda la tv alle 8 di sera tutta la famiglia mi vede combattere ok? c'è un po' di differenza c'è molta differenza capito? perché comunque anche uno sponsor che ti vuole pagare si vede subito è molto più invogliato esatto e quindi già questa è una differenza abissale da mezzanotte del sabato sera al mercoledì sera alle 8 di sera quindi tutta la famiglia tutta la gente può guardarti mentre combatti cioè anche se l'hai registrato però questo fa tanta differenza quindi all'estero è vissuta Italia-Francia capito? Italia-Svizzera è la stessa cosa la Germania con la box in tutto il resto del mondo è molto vissuto lo sport da combattimento infatti le pay per view ci sono vengono seguite da tutti gli stranieri da tutto il proprio pubblico quindi inglese francese eccetera in Italia siamo anche discriminati come atleti in eventi con la pay per view perché non vendiamo fondamentalmente quindi siamo un po' i sacchi di patate che vanno in giro perché poi non vengono richiamati proprio per questo motivo qua dove sono i paesi dove è più seguita la kickboxing? ma dove vai vai c'è ovunque ma gli sport da combattimento in generale che può essere la box la kick l'MMA il K1 la Muay Thai ovunque è seguito molto che più cioè non è che non è seguito in Italia non è trasmesso non ci sono i media che se ne occupano e quindi questo porta un disagio penalizza esatto per tutto il mondo il nostro mondo anche perché poi è un circolo vizioso meno gente c'è che ha la possibilità di vedere meno gente c'è che ha la possibilità di innamorarsi di quello sport di praticarlo di far crescere il movimento esatto e quindi tutto si tiene è un circolo vizioso in quel modo certo tu hai un soprannome fighissimo che io ti invidio tantissimo vorrei averlo anch'io Little Devil esatto ma dov'è che te l'hanno coniato? allora questo è stato bellissimo perché io dopo un un match se non mi sbaglio dopo il Giappone forse su un sito francese siccome io faccio un po' dei versi mentre ok e questo hai capito? allora e siccome io sono molto esplosiva nervosa e faccio molti calci girati anche hai presente il diavolo della Tazmania? beh ma scherzi ma io c'avevo la felpa la foto delle medie dove compare anche il mio figlio compagno che lui quando gira a parte si incazza terribilmente e fa i versi che sembro vedi? è vero che facciamo un po' quei versi lì esatto lui quando si incazza perché affano perché deve si incazza per qualcosa inizia a girare su se stesso e si vedono i pugni e i calci che escono adesso voglio organizzare un tuo incontro ho letto su un articolo Little Devil come il piccolo diavolo della Tazmania e io lì ho detto ma non ci posso vedere questo me lo tengo sono io è stato questo no io mi stavo immaginando un tuo incontro con Cristina D'Avena sotto che canta la canzone di Tazmania come ring entrance con la tua entrata la fine della mia carriera la tua entrata come nel wrestling che c'è l'entrata con la canzone T'amaro la sotto paurosissima sarebbe stupendo ma adesso Silvia mi odia questa cazzata che ho detto beh una volta in Polonia mi volevano far entrare con una canzone di Albano no bellissimo perché lì va molto bellissimo la musica di un tempo musica pugliese e quindi mi hanno detto ma vuoi entrare no anche no ti prego eh ma a noi piace forse è difficile tenere la concentrazione con Albano sotto non lo so non ti dà molto la carica questa è una cosa che mi ha sempre affascinato la scelta della canzone per l'entrata sul ring ecco questa ad esempio è la mia scaramanzia che non mi piace tanto sceglierla la faccio scegliere a un amico fidato che mi conosce oppure il mio coach che entra con me dico dai scegli la te mi fa ma tutti si sentono onorati di questa cosa ma è bellissimo ma infatti una cosa stupenda perché non saprei questo quell'altro questa mi piace questa non mi piace a volte a me piacciono proprio quelle che trasmettono carica carica ma non rock queste cose anche dance cioè musiche cioè proprio del mio spia interito capito e quindi a volte sono entrata con the rock perché la coach una mia amica che rockettare eccetera gli piaceva quella musica entra con quella va bene pensaci te va bene mi fido e poi abbiamo questa roba è pazzesca bellissima dai una faccia la scegliere a me a bise io però sono un metallaro non Cristina D'Avena Cristina D'Avena te la risparmo mettiamo giù nel contratto che non scegliamo Tasmania di Cristina D'Avena no poi è interessante che questa cosa perché vedi tante differenze tra i vari io vabbè seguo di più più girato però penso sia un po' uguale cioè la differenza nella scelta della canzone c'è quello che non so appunto c'è una canzone più allegra più spensierata quella che a me c'è la vuole mega cazzuta per caricarsi anche da quello traspare lo spirito anche con cui un atleta affronta sì 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 certo beh il motto di tanti che hanno conosciuto ad esempio su Ringsy Valhager quindi con lo spirito giusto poi a volte alcuni entrano incazzosi anche io sono un po' incazzata ti dico la verità perché comunque la tensione il nervoso però comunque si vede anche in alcuni miei filmati che quando poi entro nel ring supero le corde eccetera cioè rido cioè sono entusiasta di essere la trenarina di essere lì con la gente invece alcuni sono proprio tesi incazzosi ma già da mesi prima che iniziano a preparare il match ecco poi è ovvio che quella smorfia un po' diciamo incazzata decisa ce l'hai un po' di tensione poi immagino si vede magari quando sei anche in una finale ci sarà come ti prepari per un match importante allora non c'è un match importante o meno importante anche quello meno importante dove c'è l'atleta l'avversario meno meno forte tu comunque devi sempre dare il massimo perché bene o male la gente parla sempre ok quindi anche se mi è capitato poi me le sono fatte scivolare però all'inizio le accusavo molto anche quando incontravo l'atleta non tanto quotata e combattevo male perché la sottovalutavo comunque ah Silvia non è più la solita ah Silvia ah 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 e quindi quella cosa lì non li la devi fargliere e dopo tu continuavi a vincere è ovvio che poi quando invece domino domino l'avversaria anche se non è scarsa o è anche tanto brava comunque dicono sempre Emma era troppo inferiore rispetto a Silvia eeeh quando vinci anche non va bene quindi potresti vincere dopo un secondo beh con me io sono cintura gialla di karate ok l'avrei detto vero temibilissima cintura gialla per chi non lo sapesse c'è la cintura bianca la cintura gialla e poi 96 cinture tipo più o meno ci sono tutte le altre sfumature l'ho fatto all'asilo e io quindi fortissimo tra l'altro posso dire che mi sono divertito infatti questa questa è una domanda che ti volevo fare più avanti vabbè ormai lo tocchiamo adesso questo argomento te la faccio subito io mi ricordo che mi sono divertito tantissimo da bambino dopo avevo questa cosa che volevo giocare a calcio giustamente mi hanno detto vai gioca a calcio e mi sono divertito tantissimo e va bene lo stesso però come hai vissuto magari questa cosa perché tu vai anche proprio dei corsi allora io ho iniziato a lavorare in palestra allenando proprio i bambini che era un settore che non si filava nessuno e invece i bambini adesso vedi che riempiono le palestre e quindi vent'anni fa ho iniziato è ovvio che all'inizio non sapevo che cavolo fargli fare piano piano circuiti psicomotricità calci pugni esibizioni i bambini vanno fuori di testa ma poi anche i genitori che li seguono anche per loro è un motivo cioè ok tiro pugni e calci e poi sali sul ring con tutti che ti guardano cioè anche per loro cioè è un è un dire ok adesso devo dimostrare c'è chi ha paura non fa niente c'è chi invece viene fuori e quindi anche questa cosa qui è bella bello così si sfogano anche un po' faccio le due domande tipiche dell'immagine dei genitori la prima non è pericoloso la seconda non è diseducativo allora no se vengono in palestra è proprio perché gli serve che si educano non si educano perché educano perché quello ci pensano i genitori però che si disciplinino perché magari sono scatenati perché magari si devono sfogare così arrivano a casa e poi sono un po' tranquilli dormono esatto oppure bisticciano tra di loro è ovvio che se arriva il bambino che non mi ascolta il bambino che picchia gli altri il bambino che fa quel cacchio che vuole lui allora la punizione cos'è? ti tolgo i guantoni tu sul ring con gli altri non ci puoi salire e quindi la volta dopo cavolo entra muto zitto perché a lui piace salire sul ring a lui piace mettersi in mostra e sentire la maestra che dice ah bravo hai fatto bene quella cosa lì quindi li educa sul rispetto sulle regole eccetera eccetera ma direi che le arti marziali da quel punto di vista lì sono un'ottima scuola esatto arti marziali perché comunque tu entri nel dojo adesso è palestra e quindi devi rispettare l'ambiente non puoi correre come un matto avanti e indietro cioè vai al parchetto allora le regole mi piace questa cosa sai che c'è corri vai al parchetto no bravo allora va è giustissimo cosa voglio fare no no è giusto vai al parco sbatenati lì cioè e il rispetto per il compagno quindi tu con lui ti alleni tu con lui devi collaborare devi devi gestire delle situazioni perché se tu lo picchi e questo non riesce a fare niente a te cosa serve? a niente a te a niente a lui ma questo anche per gli adulti perché se il livello non è pari e io sono troppo forte rispetto al mio compagno e lo picchio cioè quello non impara niente non vuole più stare con me a me non serve a niente il sacco lì allora vado a fare il sacco quindi è uno scambio reciproco quindi tu mi stai dicendo che in palestra magari ti capita di beccare i bise e non lo massacri? abbiamo fatto anche spari avete fatto? no no dopo parleremo di questa cosa sono anche disposto a pagare bene per vedermi picchiato vengo mi chiami mi chiami e quindi l'hai trattato bene vabbè giustamente sì no no ma hai dato del filo da torcere perché guarda non ti crederò mai sei troppo carina nei suoi confronti è furbetto è furbetto sì sì no no è bravo è bravo quindi tu non fai solo kickboxing ma in realtà hai fatto anche ho fatto anche pugilato il nazionale di pugilato molti anni fa ho vinto 5 titoli italiani di pugilato universitario se mi fa ridere io prima ho detto coppa del mondo non so come mi sia uscita vabbè ok scusami sì e poi sì lasciamo stare taglio tutto dopo taglio metto la faccia di un altro che dice campionati del mondo e quindi tu sei partita dalla box io no sono partita con la kickboxing poi ho fatto un trascorso nella savat poi anche kickboxing eccetera poi per un periodo ho fatto solo pugilato perché non c'erano tante occasioni a livello italiano per me cioè da quel momento dovevo iniziare ad andare all'estero a combattere avevo già vinto un mondiale di savat che è una disciplina simile alla kickboxing e non c'erano quindi opportunità all'estero allora mi sono dedicata per un periodo perché mi annoiavo fondamentalmente avevo sempre la stessa avversaria nel circuito italiano allora ho iniziato a dedicarmi al pugilato e ho iniziato a girare l'Europa con la nazionale di pugilato i tornei di pugilato i dual match eccetera poi ho deciso basta dopo dieci anni stop erano proprio dieci anni e lì mi è arrivata la proposta per combattere in Giappone ma sta roba è bellissima a parte che sono un grande appassionato di Giappone e sono riuscito a non andarci mai quindi c'è no ma come lasciamo stare spero di andare a breve sto provando tra o questa o 2023 o 2024 giuro vado se no uccidete perché non ne posso più di questa storia e quindi salata là allora in pratica è successo che a mesi prima proprio su questa via crucis dei match all'estero che non entravano per la kickboxing ho mandato delle mail a degli organizzatori America Giappone Thailandia no però in altri posti niente 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 qualcuno si magari più avanti ma forse cavolo questo mi dice ci sentiamo più avanti cavolo da giugno a dicembre mi arriva questa proposta per mail che gli serviva un'avversaria per un torneo Giappone contro il resto del mondo e aveva scelto me se io dicevo di no c'era già un'altra che contattava io subito e beh hai fatto bene porca miseria nonostante era due anni che io non tiravo calci quindi io ho detto va bene sì ho contattato qualcuno ho iniziato a inserirmi nel mondo della kick e sono arrivata a vincere questo torneo fantastico e quindi ma poi ti sei fermata lì no dopo sei tornata in che senso nel senso se hai fatto gli incontri poi però sei tornata in Italia siamo stata lì una settimana ah ok ho girato un pochettino ma ti è capitato poi di tornare magari dentro spacco esco ciao e lì ti chiamano così ti chiamano per una settimana anzi già tanto di solito anche meno sono stata sono tornata in Giappone quattro volte per combattere ah dai bello perché quella volta lì in pratica mi hanno chiamato per i quarti di finale chi vinceva i quarti di finale accedeva a semifinale finale dopo due mesi quindi dopo due mesi ci sono tornata poi non ne ho più sentito niente e poi mi hanno contattato ad agosto dell'anno dopo per il torneo per difendere il torneo a dicembre dell'anno dopo e quindi poi sono tornato ho fatto il torneo di nuovo l'ho rivinto e poi dopo due anni mi hanno ricontattato per un altro match singolo che invece ho perso ok una volta ogni tanto puoi anche perdere io non mi offendo una volta su 50 match uno lo perdi e poi se no di solito mi dicevi sei in Francia in Europa sei più in Europa spesso sì esatto poi qualche volta sono andata anche in Thailandia una volta in Cina anche in America però poi non non mi hanno fatto più combattere in America ho firmato un contratto ma poi non hanno rispettato questo contratto l'hanno fatto scadere quindi peccato perché era una bella una bella vetrina un bel evento ma nella kickboxing no io mi ricordo di Steve mi è venuto un flash io che guardo questi video di sta gente che si allena tirando dei calci a che ne so alberi per allenare forse non so lo stinco le tibie ecco lo stinco ce l'ha dei maiali le tibie si vede che sono tecnico io tu mi devi aiutare anche di anatomia lui è maledetto mi guarda e già ride cioè neanche sto parlando lui già ride perché sa che sta dicendo delle cavolate le tibie quindi funziona così veramente no magari non vai a tirare i calci agli alberi ti dico ultimamente ho sentito dei ragazzi che mi dicevano che tira si tira il maestro il maestro tailandese per temprare le tibie cioè condizionare le tibie gli tirava tipo non il mattarello ma tipo il manico della scopa sulle tibie per oppure gli passava sopra ma quindi serve questa cosa ma non lo so si serve tu cosa hai fatto io non l'ho mai fatta tu non hai mai fatto niente cosa no ok no ma non so eppure io ti ho vista prima in piedi dopo abbiamo una foto e hai le tibie secondo me hai le tibie o le tibie hai le tibie ancora quindi sì invece questi facevano queste robe qua io le ho viste queste cose qua nei film nei film di anni e anni fa sì per i di Van Damme che bello ha appena compiuto quanti anni più di sessanta pazzesca tanti sì 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 ma infortuni eh vabbè certo ovvio dalle dite dei piedi alla naso ovvio quei sono i classici eh sì 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 assolutamente le dite dei piedi è vero non ci avevo pensato però effettivamente ecco io mi sono sempre più fatta male ai piedi che in generale alla parte sopra del corpo sì fortunatamente non so se è una fortuna o una sfiga ad esempio gli infortuni ultimi che mi sono capitati mi si sono stirati i tendini d'Achille meno male non si sono rotti infatti per questo motivo una volta ho perso un match un'altra volta ho dovuto l'ultimo l'ultimo match una volta l'ho accettato lo stesso perché ormai avevo firmato il contratto e dopo tre settimane dovevo combattere l'ho fatto anche il match ovvio che io mi vedo nel match che ci sono i video e capisco che avevo meno reattività ovvio che non si vede tanto però comunque si vedeva che ne movimenti eh sì perché comunque ti blocca un po' la mobilità e quindi al momento non lo senti o comunque sì lo senti ma non riesci a muoverti veramente cioè se io sono molto veloce di solito a spostarmi vedevo cioè sentivo che mi partiva mi partiva il comando dalla testa ma il piede non reagiva arrivava dopo eh sì troppo in ritardo quando prendevo il colpo praticamente decisamente troppo e l'ultima volta che mi è successo invece ad aprile di quest'anno anzi a marzo no aprile ho poi ho dovuto rinunciare al match perché non mi muovevo no poi soprattutto quel tipo di infortunio lì è tremendo nel senso che poi dopo se ti spacchi è lunghissimo no infatti ho evitato poi è bravo direi che hai fatto bene hai fatto decisamente bene senti come si come se c'è una differenza come si reagisce a una vittoria e una sconfitta in particolare magari la prima sconfitta come la vive uno sportivo allora io ho iniziato la mia carriera sia quando ero molto piccola con i match a contatto leggero sia con il primo match a contatto pieno con una sconfitta ah sì allora il primissimo match dopo tre mesi che ero in palestra mi hanno mandato cioè mi hanno mi hanno detto no Silvia deve combattere vuoi combattere va bene se mi dite che posso combattere lo faccio anni a 16 avevo iniziato a settembre io a novembre ero sul ring contro una che era la ragazza dell'istruttore che aveva 10-15 anni più di me una brava vabbè se mi dicono che lo posso fare match facile vabbè iniziamo la mattina in questo palazzetto e mi trattengono lì tutto il giorno vieni la mattina mi fanno fare il peso che si fa il peso no va che combatti più tardi più tardi più tardi più tardi alla fine aprivo il galà ma io non lo sapevo perché talmente ero piccola non sapevo ancora era la prima volta che andavo in un palazzetto in un evento alla fine sono stata lì tipo tutto il giorno alle 8 di sera dicono allora Silvia verso le 6 del pomeriggio fra un paio d'ore combattino ah ok ok mi preparano vedo che mi preparano come se fossi ma che cavolo mi stanno facendo poi entro ma io ero talmente tranquilla a mio agio ormai mi conoscevano tutti in palestra perché frequentavo un po' tutti i corsi quindi sapevano che ero brava e quindi tutti volevano anche fare gli allenamenti con me però io non so cioè non capivo non sapevo ti rendevi conto faccio questo match alle 8 di sera e tutti cioè erano entusiasti Silvia cavolo hai fatto il primo match della serata poi negli anni dopo ho capito cos'era era l'apertura di un galà della palestra ok però era una cosa importante era importante che io arrivassi lì dopo tre mesi e quindi da lì poi mi è venuta la voglia di esibirmi per me era perché era dimostrare quello che ero capace quello che avevo imparato e quindi da lì ogni mese mi buttavano andiamo qua facciamo qua facciamo là e dopo un annetto avevo vinto il primo titolo italiano a contatto leggero e poi susseguirsi di queste esperienze come ti nata la passione così tardi tra virgolette perché di solito magari allora beh anche tu in realtà hai iniziato tardissimo tardissimo sì ma poi sì allora vabbè tu direi che non hai fatto incontri ecco mettiamola così ok allora le prendo anche da te dice va bene se vogliamo dire questa cosa le prendo anche da te però com'è che vi è venuta allora ve la faccio tutte e due questa domanda così tardi perché ma a me in realtà è sempre stata una cosa che mi sarebbe piaciuto fare poi non l'ho mai fatta perché a me erano un po' contrarie quindi poi dopo negli anni ho deciso di di provare di lanciarte sì ok allora io invece ho sempre voluto fare sport quando ero piccola perché ero iperattiva ma come adesso che devo fare mille cose eccetera eccetera e sai le mie compagnie di classe ah faccio pallavolo mamma posso fare pallavolo no nuoto no no ginnastica artistica mi piaceva da morire no e quindi un anno due tre superiore le medie prima seconda superiore e vedo a parte che nella classe dove ero sentivo parlare di kickboxing vedo che anche in tv ne parlavano tantissimo perché in quel periodo come adesso c'è la Canalis ai tempi c'era oddio vabbè una modella che ha fatto anche la carriera da kickboxing che è Chantal Menard e poi anche non so se Susanna Messaggio non mi ricordo quali erano sì delle gente della tv che faceva kickboxing e quindi al telegiornale si vedevano queste parlavano un po' tra l'altro nella palestra davanti a casa dei miei una famosissima palestra ai tempi ce n'erano tre o quattro in giro per Milano e questa era sotto casa dei miei ah cavolo quasi quasi ma mamma posso andare a fare kickboxing qua sotto ah vabbè tanto ci va anche tuo fratello che faceva i pesi vai vai dovevo attraversare la strada mia madre non doveva accompagnarmi da nessuna parte quindi andavo lei mi controllava dal balcone quindi top quindi io come ho iniziato non ho mai smesso ma a me piaceva proprio io da un'ora due ore alla settimana ho iniziato a fare tre poi tutti i giorni poi facevo anche due o tre ore di fila perché mi piaceva poi mi divertivo gli altri mi spronavano a fare le altre lezioni quindi cosa ne pensi del match della Canalys eh vabbè dai ha fatto un po' di pubblicità dai mettiamola pubblicità mettiamola così poi sai dopo il covid tutte le ragazzine si sono riprese bene a frequentare le palestre va bene va bene lo stesso va bene invece mi è usato un flash il match Mayweather contro McGregor che direi che è stato solo business e beh che business ma è business 300 milioni di borsa ma lì Floyd si è trattenuto parecchio ma sai che forse io non l'ho visto eri in Thailandia si che l'ho visto si boh non lo so io non sono un esperto dal poco che ho visto mi sembrava che secondo me il McGregor non è uscito più che dignitosamente sì quello sì assolutamente perché era il primo incontro di pugilato poi lui viene neanche dalla Kik ma dall'MMA che è ancora più di salvo beh però con lo stile che ha lui che comunque cioè ai tempi che aveva ovviamente quindi dai se l'è cavata abbastanza bene adesso un po' adesso combatte mi sa tra due settimane di nuovo Mayweather ah Mayweather ah no io sa anche parlavo di Mayweather non so più con un'altra un'altra esibizione ok eh vabbè beati loro cosa ti devo dire anche se mi dicono ti dobbiamo un sacco no vabbè ma sarei andato eccomi all'istante anche io a essere ucciso in un secondo eh sì tra l'altro adesso è venuto il flash Mayweather ha fatto anche penso con un kickboxer in Giappone in Giappone certo anche lì business tipo 6 milioni di dollari in 30 secondi poi quello è un evento molto importante grandissimo un'arena enorme tra l'altro ha tipo la notte di San Silvestro il 31 di dicembre ed è un evento importantissimo in Rizin io volevo farti questa domanda bellissima la leggo perché non riesco a imparare la memoria mito o verità che le mani di chi pratica arti marziali sono considerate come armi questa cosa anche questa l'ho sempre sentita quando vedevo questi video di questi che tiravano i calci agli alberi sotto c'era questa voce che diceva non potete tirare un pugno per strada siamo armi bianche perché se succede qualcosa io ti picchio sì cioè tu mi puoi ne prendo anche perché io ti invito a farlo vado perché no perché cioè posso farti più male visto che sono anche allenata quindi certe cose non devo non dovrebbe riflarlo a livello giuridico sarà tipo un aggravante eh sì non lo so non lo voglio sapere però credo di sì è vero confermato allora ma sì confermiamo ma dimentiamo questa legge ma sì ma niente invece volevo anche parlare del progetto fighters xx project e dei videocorsi online che forse stai preparando che hai già preparato certo sì sì sei già a buon punto allora il progetto il progetto allora mi sono dedicata come ti dicevo prima a insegnare per tanto tempo ho dedicato anche un progetto ai più piccoli e ai bambini anni e anni fa infatti ha preso piede e adesso le palestre sono piene di bambini che si allenano ora invece abbiamo puntato io con delle mie amiche un'altra campionessa del mondo in un'altra categoria di peso molto superiore a questo progetto al femminile dove io e lei abbiamo ideato questo format lei campionessa del mondo di kickboxing e k1 però nei 65 kg quindi molte categorie superiori alla mia io nei 50 kg e ci siamo riunite con la stessa tipologia di idee di pensiero eccetera alleniamo le donne perché perché siamo poche rispetto agli uomini anche a pari peso un uomo è sempre più forte di una donna perché comunque ha più muscoli sviluppa una forza maggiore eccetera eccetera quindi perché visto che ci sono palestre dove ci sono due o tre atlete magari forti mediamente forti due o tre atlete un po' più scarse perché non iniziamo a fare pubblicità su questo tipo di target in maniera tale che ogni palestra anche le ragazze da sole vengono si fidano di noi perché siamo chi siamo perché sappiamo insegnare perché sappiamo parlare perché sappiamo le loro problematiche che sono un po' nel senso una donna è diversa da un uomo in tanti aspetti quindi anche l'allenamento deve essere calibrato in maniera diversa quindi l'ideologia è alleniamoci insieme tra pari ok e quindi abbiamo fatto dall'oggi al domani i primi quattro incontri messi giù così a fine agosto inizio di settembre con le date primo ottobre 29 ottobre adesso 26 novembre 17 dicembre i primi due a Milano hanno raccolto 40 ragazze e questa è stata una figata perché progettare una cosa ad agosto poi ad agosto a Milano e tutto cioè Milano in Italia c'erano solo quelle 40 persone lì probabilmente hai capito che tutti sono venuti eh sono venuti un sacco di ragazze e poi la cosa ha iniziato a divulgarsi quindi quando lo rifate dove lo fate venite da noi in palestra da noi perché non venite di qua cioè addirittura sicuramente lo facciamo a Cesenatico in estate bello esatto quindi è una cosa nata proprio da poco eh sì è piaciuta perché è un'idea è un'idea vincente comunque è un'idea che è piaciuta anche cioè i coach comunque che ci affidano le ragazze no ma se sono con voi va bene allenate le va benissimo si fa tecnica due ore si fa sparring un'ora e ogni volta facciamo uno stile diverso la prima volta abbiamo iniziato di kickboxing e K1 dove io spiegavo delle tecniche e Cristina diceva il perché il per come di certe cose ehm perché uscire meno uscire di più perché incrociare a cosa servivano quelle tecniche eh le provavano le ragazze le correggevano e le le correggevamo e poi la seconda volta abbiamo fatto box e K1 quindi con un'altra campionessa vi si è trovato che ha accolto quest'occasione perché anche a lei è piaciuto un sacco il progetto lei pugile professionista che ha finito la carriera comunque e si dedica ormai ad altro eh ha iniziato lei la prima parte con la box quindi il corpo a corpo che a lei piace che è il suo il suo stile quindi spiegando il bilanciamento del peso nei vari colpi perché portare una come portare un avversario all'angolo e come tenerla su quello la seconda ora mi sono incastrata io con il K1 quindi portando le ginocchiate al corpo a corpo tenendo l'avversaria quindi un incastro ma senza neanche metterci d'accordo è nato così spontaneo esatto la prossima data è a Verona quindi usciamo dalla Lombardia e andiamo nella palestra di Mara Borella che è un ex fighter cioè non un ex è ancora fighter di MMA ed è stata l'unica italiana ad andare in WFC e quindi lei si è unita e quindi questo farà di kickboxing striking per la MMA quindi anche questa è un'ulteriore occasione per fare le discipline a 360 gradi quindi dal pugilato alla kick si toccato un po' esatto tutte le età perché sono venute anche bambine di 9 anni 10 anni sono venute professioniste sono venute dilettanti sono venute ragazze che ancora non combattono quindi tutti gli stili soprattutto e tutte le età dalle ragazzine da 8-9 anni fino a donne di 35-38 anni ma i videocorsi invece sono un'altra cosa tra l'altro abbiamo inserito in questa vogliamo inserire in questa piattaforma la registrazione di questi stage come contenuti speciali ok e quindi io ho iniziato già a luglio a registrare le mie video video lezioni dove spiego i colpi semplici piuttosto che le tecniche un po' più difficili e poi i colpi evoluti eccetera in diversi diversi video adesso a breve pubblicherò la prima parte con 30 video dove ti troviamo si chiamerà Fighter 6x Project e sarà la piattaforma ok online dove i primi contenuti sono mie di kickboxing kickboxing e K1 poi si inserirà anche Mara Borella con l'MMA il jiu jitsu e il grappling che sono le sue discipline i denti del jiu jitsu questa era bellissima cagava questa è sta cosa a posto dei denti del giudizio ho sempre detto i denti del jiu jitsu bellissima questa è bella vero questa non è male però una volta mi ero informato per iniziare a fare il jiu jitsu me l'aveva preso sta roba qua e adesso non mi ricordo neanche la differenza rispetto a tutto il resto è il giudizio è il giudizio il jiu jitsu scusate allora intanto come abbigliamento si ha un kimono ok e si fa sulle materassine c'è una parte in piedi per portare a terra l'avversario non ci sono i colpi ok forse per quello che l'avevo visto allora così almeno perché non ci sono i colpi ero tranquillo poi ti strangola si imparati sei morto uguale con la lingua di fuori a me fa molto più paura quello no ti fai un male terribile prendi tutte le articolazioni perché poi sono ossa contro no veramente è un male proprio ho fatto bene allora è tremendo altro che il pugno infatti cioè no non lo so forse sarà perché io sono abituata però il pugno o il calcio sulle gambe cioè comunque prendi la carne sì cioè non lo so prendi il muscolo ok lì invece tu sono strite stritolano ti stritolano che ti dà proprio ma no l'ho fatto per un po' anche a livello fisico il fatto di avere sempre il corpo dell'altro addosso è molto più pesante cioè pressante a livello psicologico no non è mai la cosa del distacco esatto sì 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 ma infatti è quella la differenza abissale che è un pressing diverso questo c'è anche scusa nei corsi quindi anche il jiu jitsu l'avete infilato lo inseriremo sì capito sul progetto invece a me interessava la parte un po' legata al mondo femminile c'è un po' il fatto secondo me è un bellissimo progetto perché a parte sfata un po' al mito che siano sport maschili perché in realtà ci sono tantissime fighters che lo fanno e penso anche tanta attenzione a livello amatoriale nei corsi e secondo me è bello il fatto che essendo un progetto al femminile c'è nel senso svolto da insegnanti donne c'è molta più facilità nel richiamare anche il pubblico sì di comunicazione certo e lo vedo nei tuoi corsi alla fine c'è una prevalenza femminile penso proprio perché influisca il fatto che a insegnare sia una donna e quindi non so se da io ho sempre avuto questo coinvolgevo molto forse anche perché sai un uomo grande e grosso vede me che sono la metà magari non si fida non lo so dice una cosa vuoi che mi insegni che può essere è ovvio che io tante volte alleno ho allenato uomini alleno tuttora uomini io guardo più la tecnica che tirare i colpi forti anche perché mi tirano due mazzate volo dall'altra parte non serve né a lui né a me ok quindi curo molto la tecnica e io nei corsi sia da bambini ragazzi che adulti ho sempre su non lo so 20 persone 15 donne di tutte le età perché nei corsi dove appunto anche Bise viene a fare pugilato l'ora prima ci sono ragazzine di 14 anni che vengono accompagnate dai genitori e poi le vengono a prendere fino a donne di 35 anni anzi adesso si è scritta recentemente una signora di più di 50 anni che all'inizio è grandissima l'hai vista stasera allora all'inizio aveva mollato ho detto mi sa che ti può essere scritta giugno-luglio non si trovava non lo so è tornato a settembre zitta zitta grande però oh va di brutto infatti l'ho detto brava Beatrice ma devi vedere come bisogna fare una categoria over non ci sono infatti la soddisfazione torni piano piano ma guarda bellissima questa cosa infatti sono soddisfatta perché non mollano infatti il maestro da noi che è da noi da noi in palestra di pugilato si è fermato a guardarle e fa cavolo ma da quanto ce li è queste ragazze alcune vengono da 7-8 mesi alcune da 3 alcune dall'anno scorso ottobre cavolo menano vanno 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 cioè non si tengono ho detto eh sì penso che invece la cosa che dicevi prima l'ho sempre letta al contrario non tanto del un uomo non viene al tuo corso perché pensa cosa mi puoi insegnare ma al contrario c'è una donna che invece una ragazza che si sente più sicura a venire a un tuo corso perché in qualche modo vede una corrispondenza si sente più accettata molto probabilmente quello che aggancia esatto esatto sì sì infatti quello sai comunque se arrivi in un corso dove ci sono 20 uomini eh ti senti estranea invece se tu hai un corso infatti poi quello attira quello uno viene vede dice ah questa è una palestra che fa per me questo è un corso che fa per me poi si randellano come se non ci fosse un domani però intanto una volta è scritto ho detto va bene ragazza è scritta adesso la potete menare evviva ma tu come hai vissuto questa cosa di essere una fighter professionista con l'essere donna allora è un po' discriminante infatti io spesso no allora adesso è un po' più libera la cosa cioè si vede di più comunque tante donne lo fanno in giro per il mondo tante anche se non sei uno dell'MMA o della kickboxing comunque le donne perché sono molto belle poi in America eccetera cioè in America anche in Italia ovvio però sono molto più pubblicizzate capito a livello di marketing di pubblicità eccetera e quindi ormai è un po' più normale però ai tempi dove ho iniziato io ah fai kickboxing allora devo stare attento già una cosa del genere a me dà un fastidio già non ti parlo più non lo so perché ma vaffanculo ma tienitelo per te capito quindi dopo un po' poi sai una due tre volte infatti tante volte io evito di dirlo perché sai che dopo vai incontro alle non riesci più a interagire alle solite frasi perché in quel momento lì che lo sanno cavolo si blocca rimangono un po' più capito parati che dici ma perché sei qui non è che tu sei lì per fare un incontro esatto e quindi ho sempre cercato di evitare il discorso poi piano poi piano piano l'inserisco capito però è un po' sul chi va là ah cavolo allora bisogna stare attento allora poi c'è a chi piace invece questa cosa qua perché non lo so che ti incute un po' eh non lo so non lo so non un timore però magari se la donna forte piace ah ok in quel senso sì dipende dal tipo di uomo che trovi ecco diciamo che è una cosa che magari riesce dagli schemi prestabiliti eh sì certo dello standard eh sì perché sai la donna il blocco e invece capito fare il punto croce e quindi sai un po' è diverso comunque come proprio come interazione cioè lo capti subito sì sì certo magari qualcuno neocazzuta e una è un po' su per aria capito a me per esempio mi piace un sacco come vabbè come pugile a Clarissa Shields mi piace vederla quando va alle conferenze stampa che va spesso anziché andare in tuta va tutta in tiro eh ormai è così eh è bella questa cosa di mostrare comunque una femminilità anche se sei una pugile che poi quando va ebbè certo controcoglione no no ma infatti adesso è molto più improntato in questo modo che le donne arrivano alla conferenza stampa o anche al peso anche con l'intimo pazzesco che dice infatti vanno tutti vanno fuori di testa con sta cosa qua e e si fanno vedere comunque truccate belle impostate poi ci sono quelle che invece sono più non trasandate però arrivano in tuta se ne fretano eccetera però ormai è molto di scena come gli uomini che arrivano in giacca e cravatta e fanno il peso il face to face ebbè è business anche quello cioè ci sta però lì non esce cioè mentre sull'uomo magari non esce tanto dallo schema no c'è semplicemente una raffigurazione diversa dell'uomo elegante dall'uomo in tuta invece lì invece la donna secondo me è bello il gioco del dire tu pensi che io siccome sono una donna e faccio la fighter sono mi giro solo in tuta sono così invece no ti faccio vedere che posso essere quello che voglio infatti la cosa mia è che visto che io sono sempre in scarpe da ginnastica tuta leggings eccetera che quando esco cascasse il mondo io mi voglio mettere i tacchi perché a me piace mettermi i tacchi le gonne eccetera quindi le mie amiche magari che sono più ah ma ti sei messa così eh ma caspita io sono sempre in tuta le volte che esco eh capito e invece tante mi vedono come ah ma perché ti sei vesti cioè per andare magari in un posto tranquillo è perché io sono sempre come siete vestite voi adesso per un posto tranquillo sono sempre in tuta quindi tu al peso vai vai anche tu com'è che vai di solito sì ogni tanto sono andata vestita bene anche io sì sì ma mi piace dipende da come ti piglia al momento beh beh anche alla conferenza stampa non puoi cioè mi piace cioè andare in tuta ormai è un po' fuori moda a una conferenza stampa non so io ho sempre abbastanza odiato le tute nella mia vita penso di non averne quasi ad esempio adesso mi avete fatto venire in mente che domani accompagno la mia amica Cristina Caruso che combatte il 19 di novembre vicino Milano e lei alla conferenza stampa domani mattina ok e quindi mi devo vestire adesso devi pensare a cosa metterti eh sì dai un po' di io ti volevo chiedere anche questa cosa noi abbiamo avuto non è un mental coach ok è un coach spirituale però è una figura simile al mental coach ok che se sente sta roba qua c'è un po' di cazzo per rimanere ai livelli così alti per così tanto tempo magari ti sei rivolta a qualcuno a qualche personaggio simile nel clou della mia carriera dove magari ne avevo bisogno ero talmente motivata e cioè con proprio c'ho l'obiettivo fisso non ne hai avuto bisogno non ce n'era bisogno c'era era 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 proprio in me capito adesso tanti si rivolgono che a volte serve io non lo so se è proprio necessario magari sì è un po' personale come cosa io ti dico che ero talmente determinata cioè io come finivo un match ma anche se vincevo chissà che cosa io già pensavo adesso devo fare questo cioè ero proprio bella bellissima questa cosa è bello però un po' totalizzante è capito però un po' i campioni sono cioè i campioni veri reali che vivono del proprio essere sono così determinati che pensano solo come quelli che vogliono far carriera nella propria nel proprio lavoro cioè pensano solo devo fare devo fare cioè un po' come delle macchine purtroppo se vuoi realizzare qualcosa un po' devi esserlo altrimenti assolutamente va bene mi viene in mente Kobe Bryant così a caso uno conosciuto se no guarda anche la scorsa puntata è venuto questo ragazzo Maurizio Di Palma che fa il base jumper io lui lo conosco e so che la sera è uno che va detto prestissimo perché si deve svegliare presto la mattina cioè devi essere un po' eh sì un'autonoma certo per avere risultato poi dopo fai conto che negli anni migliori della mia vita che sono della mia carriera non vita che sono stati tipo il 2008 e 2009 io per 12 mesi ho sempre combattuto ok quindi ho fatto tipo 14-15 match che è più di uno al mese tantissimi ok e durante il periodo estivo che ai tempi soprattutto sai per l'Italia non si combatte giugno, luglio, agosto finisce un po' la stagione adesso invece si combatte anche in quei mesi e settembre ai tempi si poteva fare sia kickboxing che pugilato adesso non è più permesso siete serato da una parte o dall'altra giugno, luglio, agosto andavo via a quello nazionale di pugilato quindi in quei mesi dual match tornei all'estero eccetera e quindi mi allenavo per quei 4 mesi con la nazionale quindi deve essere stato abbastanza tosta 12 mesi all'anno poi ti prende tutto ti prende tutto è ovvio che quando c'è la settimana libera sbrachi ciao sbrachi no i miei divertimenti mi ne sono sempre fatti nel senso se sapevo che potevo ma anche per dire se ho il match a un mese di distanza e io faccio tutta la settimana brava lige eccetera il sabato poi non è che mi sconvolgo che chissà cosa combino però il sabato io la serata in discoteca che anche torno alle 6 del mattino l'ho fatta non dico di no la giornata settimana è capito la giornata dello sgarro dai l'unica cosa a parte prima degli sparring che è il test match dove ti se no ti fanno un mazzo così è ovvio che ero intelligente il martedì sera non uscivo fino alle 6 del mattino il venerdì sera non uscivo fino alle 6 del mattino però quando potevo concedermi la seratina me la facevo capito sì nel weekend anche perché se no poi scoppi eh no poi scoppi invece dovevo scoppiare da qualche altra parte ho una domanda bastardissima vai come vive me l'ha consigliata a Viserni continuo a ripeterla invece non è falso falsissimo è una roba come vive il ritiro dall'attività agonistica un atleta professionista tu adesso ti auguro che la tua carriera sia ancora lunghissima allora purtroppo te ne rendi conto già da un po' no che comunque arrivano magari meno meno richieste piuttosto che magari al posto tuo vedi che chiamano qualcun'altra che qualcun'altra fa carriera quella quella tua ok e giusto anche così cioè nel senso l'ho accettata alla fine già con l'infortunio che mi è capitato ad aprile già lì ho detto poteva essere un'occasione potevo stringere i denti e se poi rimanevo senza un piede per quattro mesi no perché poi è tremenda la situazione quindi vabbè ci fai finta di niente e concentri la tua attenzione su altre cose beh tu hai un sacco di progetti esatto quello mi motiva abbastanza è ovvio che un po' rosi chi dici è ovvio che però provi a viverla serenamente sono tanto tanto che rivivere in qualcos'altro non so se sarà possibile cioè se sarà equivalente capito perché sono emozioni veramente forti cioè arrivare ma dici che magari un allenatore non riesce a provare qualcosa di ma no mi sono capitati anche delle cose da allenatore dici ma da allenatore mica è tremenda non sei più ansiato non hai più ansia sì sì ma non è la stessa cosa cioè non è ok mi sono preparato un mese adesso vado dall'altra parte del mondo e faccio mio anche il pubblico cioè io sono mi sono capitati eventi dove pubblico dalla parte dell'avversaria piano piano senti che fanno il tifo dalla parte che bello come era Ivan Draco e Rocky eh capito bellissimo andare in Giappone sentire degli italiani che ti vengono a tifare ma dove e che poi vengono a cena con te perché hai vinto e ti dicono ah abbiamo visto che c'era un italiana qua bellissimo e hanno portato un sacco di gente cioè quella volta lì veramente io sentivo mentre combattevo vai Silvia in italiano e dicevo ma chi è ma chi sono poi sono venuti lì nello spogliatoio ciao Silvia io sono di Milano sono qua da tempo in Giappone ho portato tutti i miei amici è stato cioè una figata capito bellissimo perché dici ma come come mai cioè e sono cose che succedono lì lì per lì capito ma l'emozione più grande che hai provato allora l'emozione più grande è stata appunto questa quando ho vinto in Giappone perché arrivavo appunto da questo periodo di pugilato facevo degli allenamenti di kick da due o tre mesi e avevo dei dolori alle gambe alle tibie perché non ero più abituata non erano più condizionate le mie gambe per i calci per gli spostamenti per calciare cioè non avevo proprio i muscoli per calciare solo da una parte eccetera e quindi ero demoralizzata poi ho fatto un match di rientro tipo un mese prima del match a Tokyo che ho vinto però rivedendomi dicevo ma io dove devo andare in Giappone che quelle sono cioè ti massacrano e io qua mi dicevano la Silvia non è più forte come prima perché non sentivano i miei colpi con le score machine e il pugilato premiano non è che non tirano forte premiano il colpo che arriva a segno ma non sembrano colpi non caricati cioè non sono caricati per la velocità di esecuzione e quindi tutti mi dicevano la Silvia non è più forte ma come fate andare in Giappone quindi dopo sto match che era tremendo perché c'è anche su YouTube ma non sembravo io poi non mi ha preso con un colpo questo avversario in Italia ho detto dove vado in Giappone queste braccette senza muscoli allora arriviamo in Giappone facciamo io sei emozionata tipo sembrava una bambina io descrivo quella situazione come una bambina perché sembrava in un negozio di giocattoli mi guardavo in giro in Giappone io ho 10 anni che voglio venire in Giappone seguivo delle avversarie che poi mi sono ritrovata di fronte che dicevo questo è un mio cioè questa qui bellissima quella la conosco quella tipo stalker quasi no è vero e vedevo tutte queste cose sembrava in un film non sembrava il paese dei balocchi tutti che mi venivano a chiedere l'autografo che in Italia questa cosa non succedeva perché dicevano ma ghi cioè invece mi aspettavano fuori dal palazzetto per la foto di Rito con l'autografo e quindi questa cosa qui a me mi aveva emozionato tantissimo quindi niente arrivo nello spogliatoio match solo femminili quindi tutte donne e vedevo le ragazze che tornavano dei match col ghiaccio qua col ghiaccio qui il ghiaccio qua io guardavo il mio allenatore e dicevo minchia hai visto quella come è conciata hai visto quell'altra e lui non mi guardava neanche in faccia perché aveva più paura poi me l'ha confessato che aveva più paura di me arrivo faccio il match e sul secondo della fine della prima ripresa l'ultimo secondo della fine della prima ripresa quindi un minuto e cinquantanove io dopo una combinazione tiro un calcio sinistro al fegato che è il mio calcio preferito che nessuno pochi tirano tutti tirano i calci destri sulle gambe di solito io tiro questo calcio che arriva col piede questa si accascia per terra ed era un colpo al fegato questa non si è più rialzata quindi l'arbitro mi viene a prendere il braccio e io ho detto cazzo mi ha squalificato cosa ho fatto cosa ho fatto cosa ho fatto io win io win io win cazzo avevo vinto capito e questa roba qui tutto il pubblico dalla mia parte cioè non ce n'era non ce n'era tutti che mi fermavano non riuscivo a tornare negli spogliatoi perché tutti mi fermavano che volevano perché se tu vai in Giappone già vuol dire che per loro sei un mito ok e quindi tutti dovevano avere la foto con me c'era anche la delegazione la federazione di Sabat che sapeva che io avevo vinto un mondiale quindi erano venuti lì a tifare me quindi è stata una roba fuori dal normale cioè che non avevo mai immaginato però volevo farla capito ma è capitata così bello bellissimo tu Bise hai delle domande ma farà Silvio se no io il quizzone si chiama io voglio chiedere solo però prima del quizzone dai vai Bise vai vai cosa si prova quando si sale sul ring che emozioni si provano allora sei teso come non so cosa boh è una descrizione un'emozione strana nel senso liberatoria comunque cioè per me è sempre stata un esibirmi come ho sempre descritto salire sul ring come esibirmi come in uno spettacolo dove siccome poi io sono piccola e sul ring grosso è difficile captare un bel match no un conto gli uomini di 70 80 kg poi dove tirano forte quindi stai attento al KO le donne ce ne sono sempre un match 2 3 al massimo in un galà quindi è difficile trovare quello che cattura la tua attenzione cioè di solito durante i match femminili la gente va in bagno va a prendersi la birra va a prendersi da mangiare capito invece di me mi hanno sempre ah Silvia t'ho visto cosa hai fatto quindi vuol dire che la gente restava lì a guardare il mio match e quindi per me questa cosa è una soddisfazione perché io dovevo farmi vedere di più se no la gente non catturava l'attenzione e questo è quello che è stato per me il mio successo perché comunque la gente stava lì a guardare ah guarda cosa ha fatto hai visto che ha fatto quella cosa lì cavolo guardiamo sto match guarda questa qua e quindi quello è stato il mio forte capito quindi l'emozione è poi appunto sentire che il pubblico anche chi non ti conosce fa il tifo per te anche nel palazzetto dell'avversaria fanno il tifo per te vuol dire mi hai conquistati basta vogliono vederti vincere e quindi tu vai avanti ancora di più perché vuoi che continuino ti galvanizzano eh certo sì sì ma anche il tifo opposto a me ti piace ti carica perché sai fischi le cose e poi iniziano a stare zitti non fischiano più e iniziano e lì capisci che stai dominando te quindi sono emozioni poi dipende dalla persona alla persona c'è gente che non sente niente c'è gente che è straincazzata anche dopo che non gli passa a me boh una roba forte per i tanti lo descrivono come un momento appunto come detto tutto liberatorio comunque un momento in cui si sentono sparisce la tensione ci si sente un po' nel posto giusto nel posto in cui devi essere un po' a casa la tensione fino a appena sali sulle corde cioè sali dentro le corde ecco sali sulla sulla pasterella eccetera nello spogliatoio c'è una tensione abisce tremenda no? lì nello spogliatoio poi con l'odore di canfora che noi usiamo per massaggiarci che poi non è neanche tanto ormai proibito eccetera soprattutto se ci sono i primi match dove lo spogliatoio è pieno cioè tu senti anche la tensione degli altri capito la gente incazzata che va avanti e indietro ti dà fastidio anche a te ti concentra quando invece iniziano a smaltirsi i match quindi la gente esce che c'è più spazio un po' ti scagli di più perché dici ok i match più importanti sono in fondo e ci sono io un po' però non vedi l'ora di salire perché comunque ce l'hai cioè devi devi fare devi ormai sei lì devi scaricare la adrenalina devi scaricare sì assolutamente vado con le domande Silvia sei pronta quiz questo sono cinque domande se tu ne indovini tre puoi continuare tranquillamente la tua carriera di kickboxing se sbagli vuol dire che sei una truffatrice sì esatto no basta comunque non potrai più combattere va bene penso che siano in realtà non lo so probabilmente sono facilissime io queste non le so per me è arabo tu le saprai sicuramente che differenza c'è tra savate muay thai kickboxing allora la savate è un'arte una il pugilato francese box francese savate allora l'ho praticata per te tanto tempo si usano delle scarpette con la punta rinforzata e tu calci con le scarpette cioè il regolamento consente è sadismo questo il regolamento con le scarpe da tip tap così fai anche i rumori sarebbe interessante proponiamo questa allora il regolamento consente che colpisci dal collo in giù quindi la tibia non è concessa e anzi vieni richiamato fino alla squalifica se continui a calciare di tibia ah dal collo del piede in giù collo del piede sì in alcuni regolamenti la savate pro puoi colpire anche con la tibia ok questo per unire la kickboxing perché tanti fanno kickboxing meno savate quindi per unire i campioni da una parte e dall'altra e fare dei titoli però non puoi parare con la tibia quindi non puoi fare i block che si usano nella kickboxing combatti ai tempi combattevi con una tutina sia l'uomo che la donna con una tutina che era terribile tremenda però ragazzi la tutina se avevi il fisico bello c'erano degli uomini che avevano un fisico pazzesco e stava da dio è ovvio che si trovavi la cacciotta ragazzi sia uomo che donna era uscena ero poi di colori sai in licra lucida ciao invece muay thai muay thai allora prevede il clinch il clinch è il legame che c'è delle braccia sul collo testa e prevede appunto questo legame tra virgolette di più tempo dove puoi tirare anche ginocchiate per più tempo mentre nel k1 che è una ginocchiata sola puoi appunto tirare le ginocchiate o una o al massimo per 5 o 3 secondi dipende dai regolamenti ok nella muay thai invece ci sono anche i colpi di gomito le proiezioni a terra senza colpire a terra e che altro oddio io direi io direi che questa la numero 1 è sì per me è sì ok questa io non so non so come mi sia venuta in mente se sul resto ti do un pugno quanto vive mediamente un boxer un cane e cazzo dipende ci sono quelli che sono morti cazzarola brava una domanda travochette immaginiamoci un boxer che non ha problemi ma un boxer cane il cane è un cretino è un cretino bella questa cazzarola ci sono cascata proprio il cane quanto vive mediamente questo è importante guarda che vale anche queste una decina 10-12 anni brava sapeva anche questo sapeva anche questo scusami una volta ogni tanto mi esco c'è anche quella ho dovuto fare quella su wrestling dai non offendetevi sapevo chi è l'hand disputed WWE universal champion non ti ho neanche messo delle opzioni vai te le sparo io al momento vai dimmi Roman Reigns Brock Lesnar o Seth Rollins me ne sono inventati così beh ma uno sarà quello giusto beh uno sì è quello giusto no sai che non li conosco non li conosci adesso è Roman Reigns solo tu che ti ricordi aspetta Hulk Hogan oh cazzo l'uomo da un milione di dollari mi piaceva terribile se è rimasto beh vabbè però bellissimo bellissimo stupendo e poi come si chiama Undertaker 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 cazzo grandissimo invece nelle donne in Smackdown è Ronda Rousey che dicevano prima esatto quindi vedi poi c'è anche Raw vabbè c'è Raw Smackdown chiudiamola la parete faremo una puntata conoscete un wrestler o una wrestler da cazzarola voglio intervistare dobbiamo intervistare un wrestler niente vabbè più avanti più avanti l'altra domanda è dove è nata la kickboxing allora la kickboxing è giapponese allora arriva dal karate sì io ho segnato sud-est asiatico la sua versione odierna da cui prende il nome è stata cognata in Giappone quindi direi sì l'accendiamo perfetto anche se questa cosa che non mi piace il wrestling mi sta un po' disturbando ma vabbè vi perdono dai quante domande ho fatto? uno, due ma di solito ne fai quattro aspetta anche qua ne ho fatte quattro però aspetta perché non ho fatto la quinta perché sono rimasto sconvolto su Google si vede che non so cosa stessi scrivendo e la prima cosa che mi è capitata è chi può praticare kickboxing io sono rimasto sconvolto quindi ho deciso di non fare la quinta domanda per lasciarci così con l'amaro in bocca perché una delle domande più fatte su Google riguardo alla kickboxing è chi può praticare kickboxing cioè che domanda è? rispondiamo con tutti quanti mi auguro cioè non so un normo dosato non so non so sono rimasto sconvolto anche voi vedo sì eh sì perché che domanda è? perché tanta gente la pone esatto non so ma quindi tu le domande le hai fatte cioè no no le ho fatte io di mio però si vede che poi scrivendo kickboxing sai che dopo ti vengono giù delle domande magari quelle classiche quindi per l'ennesima volta ci stai dicendo che hai fatto solo quattro domande e non cinque dai cosa vale come quinta chi può praticare kickboxing Silvia? ma è tutti tutti perfetti quindi direi che la risposta è esatta compresi i bambini abbiamo messo compresi i bambini soprattutto i bambini anche lì mi collegavo un po' a quello che dicevamo prima anche dei bambini certo va bene io direi che puoi continuare a combattere Silvia hai il mio permesso hai il mio permesso grazie Silvia per essere stata grazie a voi qua con noi bellissimo grazie e dove ti troviamo? su Instagram su Instagram Facebook la piattaforma tra un pochettino poi quando è che non si non sa ancora bene ma speriamo settimana prossima ah va bene quindi quando esce questa puntata perché uscirà settimana prossima e poi anche il sito appena aggiornato recentemente aggiornato con tutti i miei link appunto silvianote.com che ci sono tutte le informazioni da quando c'ho 16 anni fantastico perfetto e ho visto che c'è la storia bellissima e intanto il progetto si può seguire anche su Instagram no? allora il progetto c'è la pagina anche su Instagram dove mettiamo dei post un po' motivazionali piuttosto che alcune dirette del degli stage alcune riprese eccetera quindi le nostre notizie ci sono anche sull'Instagram Fighter66project fantastico seguite anche noi trovati un lavoro vero mettete iscriviti qua qua non lo so mai dove sia mettete i like schiacciate tutto ragazzi grazie ancora e visto che tardi direi buonanotte grazie Silvia grazie grazie ciao 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 ciao